Supercorris La maggior parte tutti a Sanremo Che quest'anno con la guidabilità diversa È molto più complicato e non c'ho voglia Allora mi sono detto mi butto qua Sulla Croacia, provo a fare il world record Proprio qui, sono molto contento Perché ho fatto un test con la vettura Questa va veramente molto bene Ho scelto la Subaru del 97 Perché ragazzi questa Subaru 97 Sostanzialmente è il modello con cui Colin McCree ha esordito Con la categoria WRC Questa è la prima annata del WRC Quindi di queste vetture che erano dei prototipi Non erano uguali a quelle stradali Erano molto più elaborate Perciò ho scelto di entrare nella categoria anni 90 Per vincere il world record Proprio in questa categoria Sono contento perché la vettura si presta molto bene Molto guidabile, molto divertente E questo mi fa veramente tanto piacere Il rally come ripeto la prova speciale È molto impervia, molto possibile far bene Quindi ci proviamo Questa è un'auto iconica ragazzi Io non vi dico cazzate ma Questa è tra le mie auto da rally preferite Con la 206 e la Lancia Delta Poi se vorrò fare una classifica Vi dirò le mie 5-10 macchine da rally preferite Ma vi assicuro che la Subaru sta molto in alto Perché sostanzialmente è una vettura che Va, va È incredibile È bella da vedere Con la livra 5-5-5 È un must del mondiale rally Quindi vi dico è fantastica Perciò Non vedo l'ora di mettere le ruote sulla prova speciale Niente ragazzi Come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo E al primo canale Supercorris84 Lasciate un like Seguidemi sui miei social Sul canale Telegram Delle offerte Supercorris Offerte Amazon Dove io ogni giorno Vi metto le migliori offerte di Amazon In ambito tecnologie e videogiochi C'è il canale ufficiale Supercorris84 di Telegram Per le news di anteprima E i sondaggi Con cui vi chiedo ogni giorno Cosa Volete vedere sui miei canali Partecipate come nella scelta C'è Fruitrop E c'è il canale Viola Dove facciamo sempre Delle belle live Dai buttiamoci In prova speciale Con questa mitica Subbarimpresa VRC 4 3 2 1 Via Destra 6 Taglia poco Chiude 5 In sinistra 5 Tieni destra 5 Stringi 150 Attenzione Sinistra 5 Corta In sinistra 6 Corta Destra 5 Corta Sinistra 5 Corta In sinistra 5 150 Attenzione Destra 3 Media 80 Su cima Sinistra 5 Corta E sinistra 3 E destra 4 Lunga Chiude 50 Sinistra 3 30 Su ponte Destra 3 Media Allarga 100 Destra 5 Corta In sinistra 6 Chiude In destra 5 Corta In sinistra 4 100 Su cima Stringe Sinistra 4 Lunga Frena In destra 3 Stringe E sinistra 5 Frena 100 Attenzione Sinistra 3 Freno pesante Incrocio 300 Sinistra 4 Stringi 50 Destra 4 Chiude 30 Sinistra 5 100 Stringe Stai a destra E destra 5 In sinistra 5 Chiude Albero interno In destra Sinistra 6 In destra 5 Vieni Sinistra 4 Corta 50 Destra 4 Corta 80 Destra 3 Lunga Allarga E sinistra 2 Lunga In destra 5 In sinistra 5 Corta E sinistra 6 In destra 6 Corta E sinistra 5 In destra 5 80 Sinistra 6 In destra 6 80 Attenzione Freno pesante Incrocio Destra 1 Taglia E destra piena Taglia 50 E sinistra 5 In sinistra 5 Lunga Chiude E destra sinistra 5 Frena In destra 3 30 E 30 Destra 3 Taglia poco 30 E destra 5 In sinistra 4 Taglia In destra 6 Corta E destra 4 30 Sinistra 2 Taglia In destra 4 Taglia poco Destra 5 Taglia poco E destra 5 Taglia poco 80 E arrivo E qua France World record Anche nella categoria Delle vetture Negli anni 90 Dai Grandissimo Risultato Siamo riusciti a fare Una bella prova speciale E a strabattere La Lancer Sono contento E devo dire Che questa Subaru Mi piace veramente tanto Non è neanche la più moderna Perché sto pure Quella del 2000 Ma è appunto Voluto prendere Questa del 97 Di Colin McRee Proprio perché volevo Rientrare nella categoria Macchina Negli anni 90 Quindi Grande record Siamo riusciti a fare bene La macchina si guida Bene Abbiamo fatto un piccolo errore Ma ci sta Perché comunque In freno a mano Senza avere il freno a mano È complicato Però sono molto molto contento Ragazzi È stata una bellissima prova speciale E mi ha davvero soddisfatto Spero vi siete divertiti pure voi Ci vediamo ai prossimi video Il vostro supercorso Ciao Ciao a voglio Ciao a voglio